Ciao a tutti, benvenuti e ben ritrovati su Sunshine Money. Come sempre mi raccomando, prima di iniziare voglio invitarvi ad iscrivervi e ad attivare la campanellina così da rimanere sempre aggiornati su tutto ciò che andrò a caricare nel canale. Grazie a Trading212 abbiamo un'azione gratuita dal valore da 1 a 100 dollari. Trading212 è un'app di trading alla quale se ci registreremo facendo tutta la verifica, la procedura di Kitsch, quindi invieremo i nostri documenti, tra l'altro la procedura è molto molto veloce su quest'app, avremo gratuitamente come bonus di benvenuto un'azione dal valore casuale da 1 a 100 euro a fronte di un versamento di appena 1 euro. Una volta scaricata e installata l'applicazione nel vostro dispositivo, io come sempre vi lascerò tutti i link di riferimento in descrizione al video. farete la vostra procedura di registrazione, quindi di verifica Kitsch, invierete i vostri documenti, una buona notizia è che è possibile inviare anche la carta di identità cartacea. La verifica è molto molto semplice, molto veloce ed è completamente automatizzata. Nel giro di poche ore sarete verificati. Quindi a fronte di un versamento di appena 1 euro che è possibile versare tramite bonifico bancario oppure tramite la vostra carta prepagata o la vostra carta di credito, avrete nel giro di 24-48 ore un'azione gratuita dal valore casuale a partire da 1 fino a 100 euro. Personalmente mi è stata data un'azione dal valore di poco più di 9 euro. Infatti come potete vedere adesso il mio balance è di 10 euro e 11 centesimi. Un euro versato da me è 9 euro e 11 centesimi e il valore dell'azione che mi è stata regalata. Tale azione è possibile venderla immediatamente e quindi prendere i profitti che possiamo, badate bene, ritirare tra un mese oppure detenerla e quindi sperare che nel tempo aumenti di valore e addirittura farne un profitto. Tenete presente che tale azione potrebbe anche nel tempo scendere. Quindi valutate voi se è il caso di venderla subito oppure detenerla. Io scelgo di venderla quindi vado nel menu al centro, questo col diagramma, qui ritrovo la mia azione, eccola qui, 9 euro e 10 centesimi, attualmente questo è il suo valore, ci clicco sopra e vado a cliccare sulla voce vendi. Confermo la vendita, il mio ordine è stato eseguito. Una volta verificata la vostra identità vi arriverà anche un'email di notifica per versare l'euro che vi dicevo inizialmente e che vi darà diritto ad un bonus di benvenuto di un'azione dal valore casuale da un minimo di un euro fino ad un massimo di 100 vi basterà semplicemente cliccare su questa icona arancione e quindi su deposita fondi. Potete depositare come vi dicevo o tramite bonifico bancario o tramite la vostra carta di debito o di credito che sia o anche attraverso Skrill. Vi ricordo che è possibile prelevare i profitti fatti dalla vendita di tale azione dopo 30 giorni quindi vi basterà semplicemente andare nel menu in basso a destra gestisci i fondi e da qui preleva. È possibile anche invitare fino ad un massimo di 20 amici per ogni amico invitato avremo sia noi che la persona invitata un'azione dal valore casuale da un minimo di un euro ad un massimo di 100 per trovare il vostro reflink anche in questo caso vi basterà andare nel menu in basso a destra e quindi ottieni azioni gratis. Qui troverete il vostro reflink da condividere. Quindi oggi abbiamo visto un'altra opportunità per portarci a casa dei soldini in modo completamente gratuito. In chiusura vi ringrazio della visualizzazione e mi raccomando vi rinnovo l'invito ad iscrivervi e ad attivare la campanellina così da rimanere sempre aggiornati su tutto ciò che andrò a caricare. Like e video fanno sempre piacere e danno la forza per continuare. Il secondo canale YouTube che ho creato il canale Library, questa nuova piattaforma in blockchain quindi completamente decentralizzata dove non dovrei avere i problemi avuti in passato con YouTube. Chi mi segue da un po' di tempo sa di cosa sto parlando. Il canale Telegram sul quale di tanto in tanto arrivano dei contenuti specifici solo per gli iscritti a questo canale. Quindi questo potrebbe essere un motivo in più per iscrivervi al canale Telegram. La pagina Facebook, questi sono tutti canali che vanno in parallelo alternativi al mio primo canale YouTube che ci permetterà di rimanere in contatto ahimè accadesse qualcosa di spiacevole a tale canale. Io sono Stefano, vi auguro buoni guadagni a tutti ciao e al prossimo appuntamento.